I vostri impegni prossimi e futuri? Adesso andiamo a ballare in Milonga. Sì. E dopo domani ci abbiamo lezione e la settimana prossima siamo a Lisboa. Sì, al Festival di Lisboa. Sì, al Festival di Lisboa. Sì. Settimana, settimana. No, bueno. Carlos, no seas malo. Ok. Tenemos trabajos juntos hasta julio. Por la prima settimana del luglio. Sì, tutti i settimana. E poi abbiamo un par di trabajos suelti. Cinco. Cinco trabajos suelti. E poi i nostri cammini. Se abriranno. Ho detto una cosa che proprio non avrei voluto leggere. Che? Io come tutti, come tanti, come tutti. Credo che questo è il problema generale. Non so perché la gente pensa che noi... Saluto. Saluto. Saluto, Carlos. Non so perché la gente pensa che noi balliamo per loro. Allora, che hariamo? Noi balliamo per noi. Lo so, lo so. Noi balliamo per noi. Lo so, però ci dispiace, permette. Ok, mi dispiace. No, è sicuro. Però per noi anche. Ma anche una parte del crescimiento. Si, del crescimiento personal. E noi... A ver... Io amo ballare con lui. E amo lo che facciamo juntos. Lo che passa è che è anche buono seguir crescendo e seguir experimentando. E... Nostra decisione di non ballare juntos, Niente che vera con una questione personal. Osea, tiene che vera con una questione di... Certo. Però quindi non è detto che un giorno, magari. Che lo sai. Noi non siamo fermi noi. 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 Però di momento è come che necessitiamo anche poter seguir crescendo E... E... Ver che passa separatamente. Si. Individualmente. Abbiamo diversi obiettivi e voglia in questo momento. All'inizio erano gli stessi obiettivi. Dopo... Con il tempo... Siete anni. Quanto sono? Otto anni. Otto anni. Insieme... Arriva un momento che uno inizia a avere diversi obiettivi. Si. O no. E io. O lei anche. O simplemente sentir che già... Juntos dimos come... Todo lo che potevamo dar. Si. E por ahi dicere... Bueno, nos quedamos aca, in lo comodo. O... Seguimos buscando. Si. No? Come... È un po' questo. Allora ragazzi vogliamo... Io vi cedo il microfono. Vogliamo fare un saluto al pubblico che seguirà questa intervista? Bueno, para todo il pubblico del Tango Magazine... Tango Magazine. Les mandamos un gran beso. Un gran abbraccio. Y sigan bailando tango. Si, tango. Y sigan interessandose en el tango. Tango, tango. En todo lo que es tango. Claro. Un ocho cortado. Alla prossima. Penso. Posso dire che sono due artisti meravigliosi a livello umano? Ciao. Etro. livero-tanoso. Lavoro-tanoso. Ero. Contrabionare. Ratico. Lavoro-tanoso. Ciò. Tango. Lavoro-tanoso. Ero. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.